In Abruzzo prosegue la somministrazione vaccinale anti-Covid e su questo fronte il responsabile della campagna, Maurizio Brucchi, ha spiegato come la regione sta rimodulando la presenza delle strutture volte alla somministrazione del vaccino, che procede anche se col ritmo irridotti rispetto al passato. Questo anche frutto della stretta collaborazione con le farmacie e i medici di medicina generale. La parola d'ordine è proseguire con la vaccinazione, queste sono le indicazioni dell'assessore Veri perché la vaccinazione non si può fermare, ovviamente siamo in una fase in cui c'è la necessità di una riorganizzazione, le ASL, secondo le indicazioni date anche dal governo e anche quelle regionali, quindi rimodulano la loro attività utilizzando quelle strutture che sono i distretti che sono già adibiti alla vaccinazione, per cui la vaccinazione continua, c'è necessità di vaccinarsi, devo dire che seppure con numeri bassi però c'è un filo conduttore che i numeri sono continui, seppure bassi anche in questi ultimi giorni, soprattutto per quanto riguarda le terze, le quarte dosi, c'è anche qualche nuova vaccinazione, seppure sporadica, inoltre la vaccinazione continua nelle farmacie, continua con i medici di medicina generale, per cui le possibilità per i cittadini che si vogliono vaccinare ci sono tutte, ognuno può scegliere come e dove vaccinarsi. Va ricordato che nei centri vaccinali e non solo c'è la possibilità di effettuare la doppia somministrazione, quella anti-covid e quella anti-influenzale, ora gratuita per tutte le fasce di età. C'è ancora un po' di tempo per fare la vaccinazione anti-influenzale, noi abbiamo garantito la vaccinazione anti-influenzale insieme alla vaccinazione anti-covid e quindi diciamo di fatto questa possibilità c'è ancora e come ho già detto ci sono le strutture delle ASL che sono adibite alla vaccinazione e in queste strutture si potrà fare sia la vaccinazione anti-influenzale che la vaccinazione contro il covid-19. L'importante è non abbassare la guardia perché comunque il numero di contagi ci sono ancora, seppure poi oggettivamente le pressioni, la pressione sugli ospedali, sulle nostre animazioni ma anche sulle parti di agenza diciamo sono basse, però il virus circola, per cui ripeto la vaccinazione è importante, completare la vaccinazione per chi magari non ha ancora completato il ciclo primario e poi fare le dosi booster perché soprattutto in quelle persone maggiormente a rischio.